Massima solidarietà a nome dell'Assemblea Sarda che rappresenta il vice sindaco di Esporlato, Giovanni Canu. Quanto sottolinea una notte il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganao nel manifestare la propria avvicinanza al vice sindaco di Esporlato, vittima del secondo atto intimidatorio nel giro di pochi mesi. Nella notte ignoti malviventi hanno fatto esplodere un ordigno nell'abitazione di Campania della famiglia dell'amministratore in località Sacchessa. Lo scorso aprile l'auto di Canu, carabinieri in pensione, era stata incendiata. Un episodio gravissimo, sottolinea il presidente Ganao, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Anche per questo è necessario mettere subito al centro della nostra agenda politica l'applicazione immediata dei patti territoriali per la sicurezza. La firma dell'accordo con il ministro Marco Minniti a febbraio ci conforta, continua il presidente dell'Assemblea, ma occorre ora impegnarsi per definire con le quattro prefetture sarde un percorso condiviso con le comunità per gestire gli strumenti messi a disposizione. Condanniamo confermenza quanto accaduto, ribadendo la necessità di un intervento organico per garantire la sicurezza nei territori e rispondere finalmente in maniera efficace ad un fenomeno ormai emergenziale e consentire così agli amministratori pubblici di governare in serenità. Al vice sindaco di Esporlato conclude Canau il massimo sostegno da parte di tutto il Parlamento sardo.